Conoscete il Reate Festival? Ciao a tutti, io sono Rosa Feola. La prima volta che ho cantato su un palcoscenico è stato al Reate Festival e l'anno scorso al Reate Festival ho debutato un ruolo fondamentale per un soprano, Violetta Nella Traviata. Il Reate Festival è sempre stato vicino ai giovani e quest'anno organizza il secondo concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea riservato agli under 35. Si può presentare un repertorio che va dal 1946 fino ai giorni nostri e ci sono in premio denaro e concerti. La giuria è composta da musicisti di grande prestigio Monica Bacelli, Andrea Lucchesini, Giovanni Sollima, Alessandro Carbonare. Non perdete questa occasione, il bando scade il 15 di settembre. In bocca al lupo! Grazie a tutti!